Questo ultimo video contiene alcuni suggerimenti su quali azioni effettuare in caso di malfunzionamento dell'inverter. I motivi di un'interruzione del corretto funzionamento possono essere molteplici e dipendenti da errori di fabbrica, di installazione o errori temporanei. Per quanto riguarda le batterie LG Prime, quelle cioè connesse all'inverter SHH, si può controllare sull'app Resu Monitor se sono disponibili aggiornamenti per le varie versioni dei firmware DC-DC, BMS o LMD. Resu Monitor è l'app utilizzata per effettuare il commissioning della batteria che gli installatori certificati LG Energy Solution conoscono molto bene. Connettetevi alla batteria tramite Wi-Fi e verificate se è necessario un aggiornamento dei firmware. Tramite la app LG PV Master, invece, è possibile visualizzare se viene consigliato un aggiornamento firmware per quanto riguarda l'inverter. Aprite la app, collegatevi all'inverter tramite Wi-Fi o Bluetooth ed eseguite l'aggiornamento qualora richiesto. Tuttavia, ci sono alcune azioni che non possono essere effettuate dall'installatore, così come queste che abbiamo appena presentato, e in tal caso sarà necessario contattare l'assistenza tecnica di LG Energy Solution. In questa figura trovate i recapiti da contattare in caso di necessità. Prima di contattare il servizio clienti, verificate di avere tutte queste informazioni alla mano. Vi lascio qualche secondo per leggere le istruzioni. Molto importante è anche capire lo stato degli indicatori LED che vedete sull'inverter. Questi infatti possono essere spenti, fissi o lampeggiare ma con due cadenze diverse, come mostrato in figura. LG Energy Solution sarà sempre pronta a supportarvi e offrire la massima collaborazione ai nostri installatori.